In questa question time chiediamo un attimo conto della delibera 2989 del 23 dicembre perché come sappiamo nella parte riguardante alla fondamentalmente sospensione ai graduatorie. Nel senso che sappiamo che il decreto legge 101-2013 convertito in legge 125-2013 anche per ragioni di crisi economica prevedeva uno scorrimento delle graduatorie per i concorsi pubblici al fine di svuotare quelle e di stabilizzare gli donnei che spesso poi lavorano a tempo determinato presso le stesse amministrazioni. Con un'interpretazione unilaterale e unica in Italia la regione Lombardia interpreta che il vincolo messo, il vincolo dove si cita amministrazioni pubbliche soggette limitazioni e assunzioni non è esteso a tutte le pubbliche amministrazioni ma solo a quelle che hanno il piano di rientro cosa che non ci pare assolutamente vera. Quindi andando a penalizzare tutte quelle persone che oggi vivono un momento di precariato all'interno della pubblica amministrazione ma sono risultati idonei perché hanno partecipato alle graduatorie, lo Stato ha deciso di prorogarle al 31-12-2016 per dare l'opportunità di stabilizzare queste persone e la regione Lombardia decide in modo unilaterale di far decadere dopo i 36 mesi consueti la validità della graduatoria. Quindi quello che stiamo a chiedere è se la regione e se l'assessorato ha valutato la sospensione o la cancellazione di quella parte della delibera. Grazie. L'interrogazione in oggetto chiede se sia intenzione o meno della giunta cancellare dalla delibera delle regole 2015, quella del 23 dicembre 14, periodo del punto 262.1, graduatoria, mobilità e concorsi, validità delle graduatorie, collocato a pagina 72. Si tratta della precisazione in ordine alla durata triennale delle graduatorie dei pubblici concorsi, espletate dalle aziende sanitarie, ordinariamente fissate dal decreto legislativo 165.01, articolo 35,5 ter, con esclusione quindi dell'applicazione per le stesse delle disposizioni normative che in questi ultimi anni hanno eccezionalmente prorogato l'efficacia delle graduatorie a favore delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni. Articolo 1,4 decreto legislativo 216.11, articolo 1,388 legge 288.12, articolo 1 di PCM 19.6.13, da ultimo l'articolo 4,4 DL 101.13 che ne ha disposto la proroga a tutto il 31 dicembre 2016. La vigenza triennale delle graduatorie, ribadita nella delibera del 14, discende dall'interpretazione delle disposizioni normative e sopra menzionate fornita in questi ultimi anni da diverse fonti autorevoli, funzione pubblica, magistratura contabile e amministrativa, che hanno ribadito l'applicabilità delle citate disposizioni di proroga delle graduatorie per le sole amministrazioni soggette a limitazione delle assunzioni, trovando proprio nella predetta limitazione, che di fatto rende non utilizzabili le graduatorie, la giustificazione di un'aderoga al regime ordinario e generale di validità triennale, in quanto tale da circoscriversi nell'ambito ristretto e dalla causale specifica voluta dal legislatore. Non è ravvisabile nell'ordinamento un meccanismo di proroga quale principio generale. Fermo restando in capo al legislatore ogni valutazione in ordine all'opportunità, in presenza di regimi restrittivi delle assunzioni, di introdurre deroghe al regime ordinario. Premesso quanto sopresposto, non è peraltro accoglibile la richiesta che la Giunta provveda alla cancellazione del punto sopra richiamato alla deliberazione delle regole 2015, in quanto si ritiene che le aziende sanitarie siano amministrazioni che non sono soggette alla limitazione delle assunzioni. Ringrazio l'assessore Mantovani per la replica due minuti, consigliere Violi, prego. Sì, noi non sono assolutamente soddisfatto della risposta e nutro dei dubbi sull'interpretazione, quindi provvederò poi a chiedere magari il parere agli uffici legali per capire l'applicabilità o meno della suddetta delibera. Nel senso che davvero rischiamo di prendere in giro molti precari che sapevano ormai nel lungo termine di andare verso una stabilizzazione finalmente del loro posto e invece si trovano fregati da un giorno con l'altro con tutti almeno gli uffici giuridici di chi li assisteva che sostiene la possibilità di estendere il decreto anche alla Regione Lombardia e quindi un'interpretazione restrittiva e unica nel suo genere di tale decreto. Grazie.